Documenti che dovevano essere acquisiti e che adesso sono al vaio dei giudici della Corte d'Assise. Il Quirinale ha inviato ai PM di Matteo, Del Bene, Tartagli e Teresi, gli stralci delle agende di Carlo Azeio Ciampi, in cui compaiono le annotazioni valutate dai PM su possibili attuazioni di un accordo tra Stato e mafia sul 41 bis e su un colloquio del 93, in cui Scalfaro avrebbe manifestato preoccupazione sull'attenuazione del regime di carcere duro. In quel periodo, il ministro della Giustizia, Giovanni Conso, nominò Francesco Di Maggio vice direttore del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. Nel giugno di quell'anno, il nuovo vertice del DAP inviò proprio a Conso una nota, dove si proponeva di non prorogare più di 300 provvedimenti di 41 bis per creare un clima positivo di distensione nelle carceri. Ciampi, che aveva incontrato Gianni De Gennaro, all'epoca capo della DIA, si definiva fiducioso nella sua agenda, dove aveva annotato che i veri attentati, da quelli in Sicilia a quelli a Firenze, erano della stessa matrice. L'ex presidente della Repubblica, sentito anni fa a Palermo, aveva fatto riferimento alle sue agende conservate al Quirinale. Ho una certa età, la memoria non mi aiuta. Nella notte del 28 luglio del 93, quella degli attentati a Milano e a Roma, si temette un colpo di Stato, anche perché i telefoni di Palazzo Chigi rimasero del tutto isolati per alcune ore. Nelle agende c'è traccia anche di quella giornata. Concludo in modo duro, si legge, sottolineando la gravità dei ripetuti attentati contemporanei e il chiaro legame con quelli di mesi fa. Non si è stati capaci di prevenire, non si è fatto alcun progresso di rilievo. Gran gelo.